Magistratura irresponsabile, accanimento senza eguali e la reazione ieri di Berlusconi dopo la conferma in Cassazione della condanna a quattro anni di reclusione. L'ex premier che ha confermato la volontà di rifondare Forza Italia dovrà decidere entro ottobre se scontare la pena ridotta per l'indulto ad un anno ai domiciliari o ai servizi sociali, ai sensi della legge anticorruzione e poi Berlusconi potrebbe decadere da senatore. E ieri nota del Quirinale. La strada maestra da seguire è quella del rispetto verso la magistratura. Ora è possibile riformare la giustizia, scrive il presidente Napolitano. Prevalga l'interesse del paese, auspica il presidente del Consiglio Letta. Sentenza va rispettata, eseguita e applicata. È la posizione del segretario del Partito Democratico, Epifani. I democratici non possono rimanere in coalizione con Berlusconi, attacca il leader di SEL, Vendola. Avvio negativo in borsa per Mediaset all'indomani della conferma della condanna di Berlusconi. In preapertura il titolo del Biscione è arrivato a segnare un meno 8% per poi aprire con un calo di circa il 2%. Piazza Affari, dopo i forti rialzi di ieri, ripiega in avvio a meno 0,5%. Non ci sono le condizioni, Maroni non è intervenuto. Così Cecil Chieng motiva la sua decisione di non partecipare alla festa della Lega domani sera a Milano Marittima. Il ministro dell'integrazione aveva chiesto al leader leghista di intervenire per frenare gli attacchi contro la sua persona. Decisione che non le fa onore, replica il carroccio. Bologna oggi ricorda la strage del 2 agosto 1980 alla stazione dove alle 10.25 esplose una bomba che fece 85 morti e 200 feriti. Il ministro per gli affari regionali del Rio prenderà parte per il governo alla cerimonia di commemorazione in Consiglio Comunale. La presidente della Camera, Boldrini, interverrà a Piazza Maggiore. Domenica prossima ambasciate e consolati degli Stati Uniti chiusi per motivi di sicurezza all'annuncio del Dipartimento di Stato senza indicare quali e quante sedi diplomatiche saranno coinvolte nel tipo di potenziale minaccia.